I capolavori degli Uffizi, visionabili su iPod, iPad e iPhone. Uffizi, questo è il nome dell'applicazione, è la nuova trovata di Apple, realizzata dall'azienda Parallelo e scaricabile gratuitamente fino al prossimo 3 maggio. Oltre a vedere 33 delle opere esposte nel Museo Fiorentino, l'applicazione permette di fruire di video e immagini a tema, visualizzare dettagli e descrizioni e localizzarle all'interno del museo. Tra gli altri, capolavori quali la nascita di Venere di Botticelli, l'Annunciazione di Leonardo, la Medusa di Caravaggio e il Tondo Doni di Michelangelo. Meravie dell'arte e elegante design Apple insieme, quindi, per gli amanti del bello.